Siamo qui all'ex mercato di Torre Spaccata insieme a Pasquale Faraco che sarà in scena con Anancastico 68 insieme a Marine Debatté, poi mi dirai se ho detto bene, con questo spettacolo. Prima di tutto benvenuto. Grazie. Adesso ti passerò al microfono perché ci parli brevemente del tuo spettacolo. Sì. Allora, nel nostro spettacolo perché lo spettacolo è scritto, come dire, ideato e progettato insieme a Marine Debatté, in arte batiè, insomma così. Sì. Lui insieme a me abbiamo creato, in realtà l'idea è un po' antecedente, cioè facciamo un po' una piccola storia dello spettacolo. Lo spettacolo nasce più di un anno fa a Bologna, io sono chiaramente di Bologna in realtà, si sente dall'accento, perché insieme ad altri compagni di viaggio, IMAF, Massa a Foco, il mio collettivo teatrale che opera a Bologna, aveva avuto questa idea, cioè praticamente in un futuro cosiddetto distopico, ecco come una solida, un uomo vende il suo cervello a una multinazionale, perché il cervello umano ha una capacità computazionale superiore a qualunque computer, ancora adesso, e così quest'uomo in cambio di una connessione quasi perpetua, cioè riuscire a essere connesso continuamente, vende il suo cervello e fa operazioni finanziarie, eccetera, 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 ha un alto indice Cnana, ci siamo inventati questo indice Cnana, che poi è un gioco di parole, se verrete lo spettacolo scoprirete qual è, e in pratica perché lui ha un alto indice di connettività proprio, cioè riesce a connettere tra loro vari, passa continuamente dalla scienza alla matematica, dalla canna a Deleuze, a De Filippo, a Totò, insomma, non lo so, fa qualunque cosa, si connette in continuazione, e quindi da questo era nato questo edembrionale, è stato fatto uno spettacolo a Bologna, insieme a Leonardo Bianconi, un giovane attore bolognese, dopodiché poi abbiamo vinto una residenza al Sala Roma Teatri, direttore artistico e Pietro D'Attola, con questo spettacolo, questa primavera, abbiamo fatto una trentina di minuti, e poi abbiamo partecipato al NOPS Festival e siamo stati selezionati, ecco quindi. Allora, qui in questa settimana stiamo guardando, vedendo, proprio alcuni minuti, non interamente lo spettacolo, questo spettacolo è già completo, oppure è ancora in fase di studio, di lavoro? Fortunatamente è in fase di studio, di lavoro, cioè in realtà lo spettacolo originario era completo, Poi insieme a Marin, che è un giovane attore, regista, spezzino, ma diciamo che studia a Roma, lo spettacolo si sta modificando, quindi mi piace pensarlo ancora da completare, perché appunto c'è curiosità, scoperta, eccetera. E una cosa importante volevo dire a proposito dello spettacolo è che domani, quando verrà il pubblico, noi inviteremo tutti, e lo facciamo fin d'ora, a non spegnere i cellulari, cioè questo è il primo spettacolo in cui noi chiediamo di non spegnere i cellulari per partecipare a uno strano concorso, cioè in pratica se il pubblico si collegherà alla pagina Facebook di Arancastico 68 anteprima, potrà poi nello spettacolo riconoscere le varie citazioni che farò, che faremo, sempre con questa connettività continua che faccio, eccetera, e si vincerà un premio, poi si capirà che premio è. Ecco, intanto ci hai messo la curiosità proprio per lo spettacolo, quindi mi raccomando non si spengono i cellulari, sarà la prima volta che accadrà una cosa del genere. Intanto, di questo spettacolo, visto che comunque l'avete portato un po' in giro, avete un complimento che vi hanno fatto, un suggerimento per quanto riguarda, visto che è comunque in continua evoluzione? Per quanto riguarda il complimento, forse un complimento diciamo che è un po' generico, è che è stato per qualcuno il migliore spettacolo di quelli in residenziale a Sala Roma Teatri. Diciamo che forse il complimento più bello è che in realtà è uno spettacolo abbastanza, come dire, coinvolgente, emozionante, cioè nel senso che noi operiamo a vari livelli, infatti ci saranno proiezioni video, ci sarà della musica, proviamo a sollecitare un po' sensorialmente un po' lo spettatore a vari livelli. E un difetto fosse, sì, che due test pensate sono difficili da mettere da cosa, nel senso che abbiamo, il che è bello diciamo ad un certo punto di vista, ma è anche un po' stressante, con Marine che ha delle idee, eccetera, io ne ho altre, però poi cerchiamo di arrivare a una sintesi, ecco, quindi questo è l'augurio che ci facciamo, insomma, perché poi lo spettacolo è un po' astrato, cioè poi sotto, in fondo il messaggio, se possiamo parlare di messaggio in quest'epoca, insomma, in cui non si dovrebbe più parlare di messaggio, ma in realtà l'idea è che in fondo anche in un'epoca come la nostra, in una connettività continua, eccetera, certi rapporti umani, tipo, faccio un esempio a caso, padre e figlio sono insopprimibili praticamente, cioè in realtà nascono comunque, germinano spontaneamente, ecco, questa è un po' l'idea. Mi hai detto che sei di Bologna, ma non sei di Bologna, perché il tuo accento non è bolognese, sei napoletano, ecco. Posso mascherare l'accento, ma poi non ci riesco, sì, sono di Napoli, diafragolo per l'esattezza, a pochi chilometri da Napoli, ma infatti molti spettacoli miei sono in napoletano, io qua al NOPS ho una lunga, diciamo, frequentazione, insomma, perché tutto è iniziato con un testo che ho scritto, che è questione di centesimi, su un operaio Fiat di Pomigliano, che fu pubblicato per la scena, rivista online, diretta anche da Fabio Massimo Franceschelli, che ha vinto poi il premio Franco Quadri al recente premio Riccione, e il NOPS lesse questo testo, mi chiamarono, insomma, fu una bella esperienza, all'epoca, mi ricordo, mia moglie era anche incinta, quindi venimmo col pancione, eccetera, e da allora poi anche altre volte sono tornato e faccio spettacolo di solito in lingua in napoletano, insomma, ho fatto un travestito, ho fatto un operaio Fiat di Pomigliano, però poi prova a recitare pure in italiano, insomma, la dizione è importante, ecco, esattamente qui. Perfetto, allora, intanto noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al luogo per tutto, però prima di lasciarci, qualche altro progetto che hai in mente, con cui oppure stai lavorando, stai mettendo su? Come diceva Jack Torrance in Shining, idee tante ma buona nessuna, prima di cercare di ammazzare la moglie e il figlio, no, in realtà sì, ce n'ho sempre molti, e questo vorrei cercare di farlo crescere, di maturarlo bene, in genere, insomma, sono uno molto polluce, parecchia roba, insomma, spesso non sempre mette a fuoco. Vorrei provare a scrivere qualcosa di un po' più decente rispetto a quello che ho scritto attivamente, non scherzo, poi, quindi forse vorrei superare la fase del monologo, e quindi forse questo è quello che tenterò di fare prossimamente. Una cosa importante volevo dire, ne approfitto, perché un mio testo, che è l'annunciazione, poi dedicata alla Terra dei Fuochi, dove c'è una donna incinta, eccetera, vabbè, che è stato poi pubblicato da Scena Muta, che è un editore poi di Roma, che fa capo a Mangiaparole, non so se questo locale, non so se lo avete mai sentito nominare, dove poi ci scrivono anche Adriano Marenco, Fabio Massimo Franceschelli, ecco, ci tenevo a sottolineare perché è una collana importante, cioè una collana di teatro, ce ne sono poche in Italia, che tra l'altro non è a pagamento da parte dell'autore, ecco, quindi faccio un po' di pubblicità a me, ma anche alla collana Scena Muta. Allora, grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi, grazie a te. Ciao.